Organizzato dall'Associazione Tra le Note, torna a Fano il concorso sulle note della fortuna, arrivato alla sesta edizione. L'evento musicale si svolgerà l'1 e 2 giugno ed è un corso canoro nazionale per cori delle scuole primarie che, dopo aver presentato un brano inedito, sono state selezionate da una giuria qualificata, formata da Elisa Ridolfi, Andrea Alessi, Paolo De Lorenzi, Francesco Gazzè e Massimiliano Fiorani. L'appuntamento si svolgerà al Teatro della Fortuna. Il concorso ospiterà quattro cori che risultano già vincitori e sono il coro I Leopardini di Pesaro, il coro Voci di Corridoio della Scuola Gentile, il coro Incantare di Cattolica, il coro di Bologna che appunto risultano vincitori di una borsa di studio e vincono la partecipazione alla finale del concorso. Il concorso nasce e cresce in collaborazione con la Fondazione Teatro, ha il patrocino e la partecipazione della Regione Marche ed è in collaborazione con il Comune di Fano nei vari assessorati alla cultura, al turismo, ai servizi educativi, cremi, eccetera. Unico in Italia, il concorso vanta l'accompagnamento musicale dei cori da parte di un'orchestra giovanile che è la Mosaico diretta dal maestro Gian Gambini. La manifestazione verrà trasmessa in diretta tramite il canale YouTube dell'Associazione sia a tutta la città ma soprattutto poiché i posti sono limitati sia per i bambini che occuperanno tutto il teatro ma anche per gli accompagnatori che occuperanno tutto il cinema teatro Politeama appunto in diretta sul canale YouTube dell'Associazione per cui seguiteci.